Tratti di Donna è un progetto editoriale nato sull'onda del successo del percorso di appredimento esperienziale She Business Leadership and Self-Empowerment promosso dal Comitato Femminile di Confindustria Salerno. Ma cos'è in realtà questo progetto? Sono la volontà di tangibilizzare progetti concreti di valore di un territorio che vuole esprimere la sua, vuole comunicare innovazione e creatività, quindi è nato anche un networking imprenditoriale. E arriviamo a Tratti di Donna che raccoglie le testimonianze di 15 imprenditrici utilizzando lo storytelling, un nuovo modo per comunicare l'innovazione di impresa, ma tutto nasce, come dicevamo, da She Business. She Business è un percorso formativo, dinamico e innovativo che ha visto coinvolgere 30 imprenditrici della provincia di Salerno, un percorso personal-professionale sulla leadership and self-empowerment e appunto abbiamo questa formazione, è stata organizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, è stata finanziata dalla Camera di Commercio di Salerno coordinata con Asso Service. Il progetto ha permesso anche la realizzazione di un volume, edito da Area Blu Edizioni di Grafica Metelliana, scritto da Giuliana Sacca, ed una mostra-evento con vernissaggio. Confindustria quindi raccoglie a pieno anche la sfida della cultura. Questo rappresenta anche un giusto campione per dire che l'imprenditoria femminile in provincia di Salerno è un'imprenditoria di successo, un'imprenditoria che si fa strada e quindi una comunità femminile rappresentata a Salerno dalla Presidente Rinaldi, Presidente dell'aggruppamento femminile, che mette in moto una serie di attività utili anche per l'economia di questa provincia.